Ciao a tutti, oggi vi vorrei dare una panoramica su tutti i prodotti di ProAction senza glutine, senza lattorio, senza derivati del latte e adatti anche a vegetariani o vegani, perché è giusto anche ricordare o ricordarsi di scelte specifiche di molti nostri atleti o amanti dello sport. Partiamo in primis con i prodotti senza glutine. Il senza glutine è abbastanza facile da trovare perché la maggior parte degli integratori compresse o polveri sono senza glutine. ProAction, il 90% di polveri compresse, anche gel, sono senza glutine. Ma nello specifico magari andiamo a parlare delle barrette senza glutine come Protein 33% o Zero Bar, 50%, quindi due barrette molto utilizzate come spuntino o come post-attività con la libertà di non avere glutine. Possiamo andare avanti ancora, quindi avere una panoramica un po' più ampia, quindi avere barrette senza glutine ma senza anche derivati del latte e lattosio. Qui è il caso di una barretta molto particolare, a noi anche molto cara, che è la Life Raw Bar. Una barretta energetica, senza dubbio alcuno, ma anche utilizzata da sportivi più giovani, bambini sportivi. Raw Bar è una barretta specialmente a base di datteri con aggiunta o di cocco in un gusto o di carote e spinaci in un altro. È una barretta anche cruda, Raw significa cruda, quindi viene lavorata a una temperatura inferiore di 40-45 gradi. Questa Raw Bar è una barretta appunto senza glutine, ma molto importante, senza latte, derivati del latte senza lattosio. Ovviamente per chi volesse poi avere anche l'aspetto proteico abbiamo una vegan bar che sia proteica e senza glutine e senza lattosio. Quindi trovate tutta una panoramica di prodotti sia nell'energetico sia nel proteico che sono senza glutine o senza lattosio. Infine per chi proprio volesse avere un prodotto in polvere specifico senza glutine e lattosio, ma senza latte derivati, è la Egg Protein, quindi la proteina dell'adubina dell'uovo, molto utilizzata come spuntino, come colazione o postattività. Se poi si volesse anche passare ad un aspetto più vegano, ricordo ovviamente la Soy Protein di ProAction che contiene proteine isolate della soia, quindi senza fibre estrogeni. Quindi ProAction, vedete, presenta una panoramica molto ampia anche per chi ha caratteristiche o necessità particolari di avere prodotti senza glutine, lattosio, latte derivati per vegetariani o vegani.